Allora, qualche istruzione per l'iscrizione, ci sono più di 1000 files di vario genere e ci si può iscrivere come istituzione, se si prevedono accessi multipli o come privati e anche solo a una singola sezione del sito. Molto importante, prima dell'iscrizione, leggere il regolamento. Si effettua il bonifico bancario per la cifra indicata, si manda il form di iscrizione e insieme al form di iscrizione la ricevuta della prenotazione. Vi rimandiamo presto password e nome utente e siamo a disposizione per tutti i consigli che volete chiederci. Essendo un sito completamente ristrutturato, ci saranno sicuramente anche delle segnalazioni di correzioni necessarie. Grazie